Ciao a tutti, sono venuti in questo nuovo video che ci tenevo a farlo, scusate le mie condizioni ma è praticamente stata poco bene, ve lo spiegherò poi in un altro video perché sono risultata positiva, quindi poi ve lo lascerò sopra, sotto non lo so se riuscirò ma comunque lo farò più avanti per spiegare bene tutto, adesso sto molto meglio, oggi andrò a fare anche il tampone, quello rapido perché appunto io ho due dosi di vaccino quindi vado a farmi rapido per sapere se sono sana e posso finalmente scarcerarmi, crociamo le dita allora parliamo subito di quello che dovevo parlare in questo video, spero che lo guarderete se non lo guarderete a pazienza comunque cercate di seguirlo fino alla fine, cercherò di essere il più sintetico, il più veloce possibile allora volevo sponsorizzare quest'app più o meno gratuitamente sia per dire perché comunque per chiunque scaricherà quest'app si chiama WeWord, l'app WeWord vi permette di guadagnare i soldi camminando, tecnicamente è quello che pubblicizzano tutti io quest'app l'ho scoperta grazie a un tiktoker che usa tantissimo quest'app, se riuscirò a lasciare sotto il suo link vi fa anche capire dei modi per guadagnare più velocemente, delle tattiche ci tengo a precisare una cosa, vi lascio sotto il mio codice che dovete inserirlo entro 48 ore da quando scaricate l'app l'app la trovate la più scaricata al mondo, ormai si chiama WeWord proprio e quando scaricate l'app basta che vi registrate con un account google qualsiasi mettete i vostri dati e convalidate tutto poi andate nelle impostazioni in alto a destra e mettete, c'è scritto il codice di presentatore il codice E, entro 48 ore e inserite il codice quando avete inserito il codice vi arriva automaticamente 300 WONT che sarebbe la valuta dell'applicazione cosa succede? che ovviamente ci guadagniamo sia a chi dà il codice sia a chi lo prende voi ci guadagnate subito la persona che vi dà il codice non guadagnerà i suoi 100 WONT finché voi non arriverete a 400 però già partite con 300 quindi già è buono però finché voi non arriverete a 400 noi non ci spetta nulla quindi di per sé è un po' un azzardo che facciamo noi però ci fa piacere presentarvi l'app l'app praticamente è molto semplice dovete camminare funziona anche il metodo scrollo il telefono sì, se qualcuno se lo chiede anche quello funziona anche appenderlo la cosa principale non è tanto il fatto di quando camminate ma la cosa più importante è che mettete una sveglia che è già impostata nelle impostazioni di reward ma è abbastanza intuitiva di ricordarvi di settare i passi prima della mezzanotte se non li perdete perché ogni tot di passi equivale a tot won't la valuta sono la W la chiamano W, la chiamano award, won't non ho capito che valuta sia sono ovviamente che nulla è gratis quindi dovrete comunque impegnarvi per guadagnare qualcosina come funziona l'accredito che tutti vorrete sapere quello IBAN o tramite buoni però potete mettere l'IBAN tranquillamente ma all'inizio non è questo il vostro problema perché dovete arrivare a molti won't prima di avere i soldi come farci? sono degli stratagemmi ovvero ci sono dei giochi che potete scaricare sul telefonino che vi danno fino a 7 won't al minuto ovviamente più andato avanti più andranno un po' a scemare nel senso che potete averli al minuto e li avrete ogni 10 minuti ogni quarto d'ora oppure settare i passi in tot orari che vi danno comunque tutto scritto sull'app io adesso l'ho scaricata più o meno da due giorni perché ho visto vari video devo dire che sono arrivata quasi a 700 won't quindi comunque sono abbastanza contenta nonostante io non faccio tantissimi passi perché sono in quarantena ancora quindi contatta anche quello se riuscite poi ovviamente ad avere il braccialetto fitness vi è ancora più comodo perché il cellulare non dovete usarlo ma se avete avuto il fitness è andato in bici eccetera vi calcola ancora meglio e tutto il resto basta solo fare i bonus con i bonus tipo sondaggi guardare le buscita, i giochi usare l'app ogni giorno anche se l'app è chiusa funziona lo stesso per quanto riguarda i giochi no i giochi dovete ovviamente giocarci o lasciarli comunque aperti quello che vi consiglio di più è il gioco che ha a che fare con un porcellino con le monetine perché è quello che vi dà di più ma comunque lo li trovate tutti là poi ci sono i sondaggi sfortunatamente i sondaggi dipendono da persona a persona ma qualcuno lo trovate sempre pubblicità fate solo attenzione la pubblicità non è sempre disponibile a volte c'è e vi dà un want ogni volta un word, un want ogni volta che la guardate anche quello aiuta molto tutti i bonus sono fondamentali vi ricordo che il codice io lo lascio sotto dovete inserirlo entro 48 ore da quando vi fate l'account perché sennò non vi dà i 300 want che già come partenza è molto buono poi scegliete voi come volete gestirvi l'atto io vi consiglio di utilizzare uno smartphone vecchio sennò se avete uno nuovo associatelo a un bracciato fitness è carino sembra che è un'app molto carina ha delle molte gabbole non diventate miliardari raga ve lo dico direttando però ogni cosa vuole per guadagnare i soldi quindi io vi lascio sotto tutte le indicazioni se avete domande potete farmene nei commenti io mi sono informata per vari giorni ce l'ha anche il mio amico Andrea che comunque ce l'abbiamo da giorni io l'ho fatta col mio codice io l'ho fatta col codice amico di questo ragazzo che ho conosciuto su tiktok che è molto esperto infatti è molto bravo lui a usare quest'app ci sono delle strategie comunque tramite bonus tramite tantissime cose per guadagnare di più che si possono scoprire comunque nell'app le trovate anche online e tutto ovviamente ripeto io vi consiglio di scaricarla e comunque provare se voi non vi trovate ma che vada la togliete tanto l'Iba non è obbligatorio assolutamente vi registrate con un'email che volete voi non dovete mettere obbligatoriamente il vostro cellulare serve solo un'email e niente io vi ringrazio per l'attenzione e ci vediamo in un prossimo video se scaricate l'app fatemelo sapere sotto vi scrivo il codice che serve per inserirlo per avere i 300 word want alle iniziali ciao